Eccoci qua con un prodotto molto interessante, si tratta del Vitality Wireless Stereo Headset Il codice HBS760, troverete il link in descrizione per l'acquisto E devo dire che è un prodotto molto interessante per la qualità del prodotto, per la tipologia di prodotto Anche se nel complesso non mi ha particolarmente convinto Sono delle cuffie bluetooth, delle cuffie bluetooth che hanno questo cerchietto come potete vedere Da mettere intorno al collo Cuffie bluetooth che si sono comodissime da tenere addosso Perché abbiamo questo magnete che ci permette di tenere le cuffie all'interno dell'alloggio Mettiamo queste cuffie al collo e poi quando vogliamo utilizzarle le togliamo dal magnete Ce le infiliamo nelle orecchie e ascoltiamo la musica La qualità audio anche è veramente buona in queste cuffie Tuttavia trovo molto scomodi i bottoni avanti e indietro, il volume più e meno Il pulsante stop e play e di risposta alla chiamata E trovo anche molto scomodo l'inserimento nelle orecchie di questo auricolare Per questo probabilmente è un problema delle mie orecchie Io gli auricolari in-ear faccio molta fatica ad utilizzarli Per esempio solo con le Xiaomi Piston mi trovo particolarmente bene Questo tipo di in-ear per me sono praticamente inutilizzabili E questa cosa è abbastanza limitante per il mio utilizzo Inoltre anche i magneti, devo dire, una volta inseriti alla meglio Si funzionano, si riescono ad utilizzare bene Rimangono anche ben agganciati Però vedete, basta un minimo scossone, un minimo tocco per tirarli fuori E questa cosa invece, devo dire, è abbastanza scomodina Tuttavia la qualità musicale, ti badisco, ha una buona qualità Abbiamo il giusto mix tra bassi, medi e alti Forse abbiamo dei medi un po' più corposi rispetto ai bassi e agli alti Però devo dire, mi è piaciuta come qualità musicale E fantastico anche il fatto che il pulsante indietro, avanti, back, forward Più e meno e il pulsante risposta chiamata Il pulsante play e stop funzionano veramente bene Vi farò adesso vedere Collegandolo al nostro dispositivo Basterà accenderlo Quindi vedete qua c'è la levetta on-off Andiamo su on Si accenderà la lucina e inizieranno a vibrare come i dannati Si è appena connesso al nostro dispositivo Quindi apriamo spotify E vi ricordo di iscrivervi alla playlist top hits spazio high tech Andiamo a prendere una bella canzone Accendiamola al massimo E prendiamo il nostro classico microfono Per vedere effettivamente quanto si possa più o meno sentire 77.8 dBi è sicuramente un buonissimo risultato Adesso vi avvicinerò il microfono per vedere se riusciamo a farvi capire qual è la qualità sonora Ok sicuramente non è la stessa cosa che averli addosso Però vi posso assicurare che la qualità del suono è molto alta Ha veramente un buon suono E la batteria di questi auricolari è anche altrettanto buona Li ho utilizzati per una buona giornata Ovviamente non di fila, non consecutivi Li avevo utilizzati per circa 4 rette E verso la quarta ora hanno iniziato a scaricarsi Però con un uso normale, quotidiano Secondo me i 2-3 giorni li riuscirete a fare tranquillamente Il prodotto in sé mi ha incuriosito Mi è piaciuto Però nella sua reale utilità Li ho trovati invece abbastanza scomodi Forse per il tipo di costruzione Forse per il fatto che si sono ideati al meglio Perché l'idea è veramente originale e utile Ma realizzato in questo modo probabilmente non può andare a svolgere il suo compito Come effettivamente dovrebbe Non mi piacciono questi cavi che penzolano in questo modo Sicuramente se avessimo avuto le cuffiette Magari con un cavo che si tirava e si riavvolgeva in qualche altro modo Ecco sarebbe stato assolutamente più comodo Pussante indietro, pulsante avanti, volume più, volume meno Funzionano tutti molto bene Anche le chiamate funzionano molto bene Abbiamo anche il microfono all'interno di queste cuffie Quindi potremmo andare direttamente a rispondere alle chiamate E abbiamo qua all'interno la micro USB per ricaricare le cuffie Bene, io vi metterò il link per l'acquisto in descrizione Se le avete già provate Perché ce ne sono già in giro parecchio Ho visto molta gente che utilizza questo tipo di cuffie E quindi ho voluto provarle anch'io Se invece avete intenzione di acquistarle Fatemi sapere se le acquisterete Fatemi sapere cosa ne penserete Se dopo averle acquistate Se invece avete qualsiasi altro tipo di domanda Fatemela pure nei commenti Io tanto le ho qui con me Le ho ben provate Quindi potrò tranquillamente rispondervi Quindi a presto con le prossime recensioni Ciao a tutti ragazzi da Daniele Per Spazio Hightech Grazie a tutti Grazie a tutti